Allora, continuiamo la nostra trasmissione, vi ricordo sempre appunto questa esclusiva che stasera Con ha ottenuto e che metteremo in onda domani sera, questa esclusiva intervista col Presidente della Regione Onorevole Nello Musumeci, domani sera 2 febbraio alle 21.15 ecco sarà messa in onda questa intervista. Benvenuto al Professore Franco Pignataro buonasera grazie di essere qui con noi, dirigente scolastico del comprensivo Alessio Narbone come sta intanto? L'apparecchio non ci si vede? Entrando qua ha trovato tante novità e quindi è passato tanto tempo? Credo quasi due anni, un anno e mezzo. Ma che dici professore? dai. Ricordo bene che le ultime volte erano le lezioni amministrative. E dopo come dirigente scolastico non è venuto niente una volta? No, non è mai capitato. Ma non ci credo, guarda. Io ricordo così, poi l'età può fare vacillare la memoria. Ma non credo professore, guarda. Sicuro? Mi fa piacere che ho trovato tante novità in questo studio. E io come mai diciamo non l'ho attenzionata. Ma lei non ha motivo di attenzionarmi. Siccome sono molto attento a queste cose. Vabbè, magari non è capitato. Però non credo che sia passato tutto questo tempo. Cioè l'ultima volta è stato qua quando c'è stato il confronto finale con il sindaco Ioppolo. Ma non credo, no, no, no. Io chiedo a qualcuno dei collaboratori se può istruirmi su questo. Ma non credo che sia una notizia importante. Ma sa, perché è passato un anno e mezzo diciamo, giusto? Più di un anno e mezzo, ma non è possibile, dai. Vabbè, allora stasera parliamo di scuola. Il giorno 6 si chiudono le iscrizioni per il prossimo anno scolastico, 2018-2019. La Lessio Narbona al solito presenta una scuola con tante attrattive, no? Sì, diciamo che tante no, ma indubbiamente siamo sempre impegnati in processi di innovazione, di ricerca, ma non solo la nostra scuola, anche le altre. Cioè fortunatamente la nostra città ha una tradizione di istituzioni scolastiche che hanno qualità, livello e fra l'altro anche una capacità collaborativa per cui con le altre scuole siamo in rete, collaboriamo insieme, programmiamo la formazione del personale. Noi in questi anni ci siamo specializzati sull'innovazione tecnologica perché pensiamo che l'innovazione tecnologica non sia un elemento aggiuntivo della formazione, non è un semplice utilizzo di altri strumenti. L'innovazione tecnologica ha una rigatuta trasversale. Io recentemente, circa 10 giorni fa, sono stato a Londra, ospite dell'Apple, il grande colosso che fa gli iPhone, erano presenti circa 200 dirigenti scolastici provenienti da tutta Europa e ci hanno presentato quello che sarà lo scenario, non futuro perché ormai gli scenari sono di breve durata, di breve attuazione e abbiamo verificato come la prossima contemporaneità. L'uso delle tecnologie sta cambiando completamente la natura dell'insegnamento, i processi di apprendimento e soprattutto le tecnologie consentono anche soprattutto per i ragazzi che hanno più difficoltà, che non sono motivati perché oggi, e questo è un grande tema della società contemporanea, gli studenti attraverso i social network, attraverso le chat, si trovano spesso in situazioni, diciamo multitasking, fanno tante cose contemporaneamente ma raramente entrano nella profondità delle cose, hanno un rapporto spesso con la carta stampata, in modo particolare con i libri di testo e con le forme tradizionali di apprendimento molto lontane, quindi il tema che devono affrontare gli insegnanti innanzitutto non è tanto quello di passare delle informazioni, delle conoscenze che indubbiamente ha un suo valore, ma quando quello di catturare la loro attenzione, di favorire forme di apprendimento che non siano solo legate al libro di testo, che non siano legate solo ad una cultura monomediale, cioè con un solo medium, ma con tanti medium, quindi dell'iPad nel caso dell'Apple, ma anche le tecnologie informatiche, il telefonino, lo smartphone, cioè tutta una serie di tecnologie che abbiamo verificato, spesso noi pensiamo che i ragazzi essendo dei nativi digitali abbiano molte competenze informatiche, invece non è così, nel senso che loro spesso non conoscono alcuni pacchetti fondamentali che si utilizzano oggi nella vita di ogni giorno, perché utilizzano prevalentemente soltanto le chat, soltanto qualche social network, alcuni programmi di fotografia, cioè quelle cose che hanno prevalentemente una dimensione ludica, altri applicativi che avrebbero una loro importanza e che servono per il futuro, purtroppo non vengono utilizzati. Per esempio noi nel mese di gennaio abbiamo realizzato un intero mese a partire dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola media, alla scuola secondaria, facendo robotica in maniera intensiva, ovviamente lei dice ma i bambini di scuola dell'infanzia di 3 anni, 4 anni, c'è un tipo di robotica che possono fare, ma è chiaro che lì abbiamo privilegiato maggiormente la dimensione ludica, la dimensione del gioco, della interattività, però abbiamo verificato che dietro la robotica, dietro la costruzione di un… che so, noi abbiamo dei cani che si costruiscono con i Lego o altri personaggi, dietro questo c'è una logica, c'è una logica che si applica per costruire sequenze che consentono al robot di muoversi, di fare determinati movimenti e quindi c'è matematica, c'è logica e c'è tanto altro e abbiamo riscontrato proprio un grande successo dei ragazzi, infatti recentemente abbiamo avuto un finanziamento, abbiamo realizzato un ambiente che si chiama 3.0, classe 3.0, che è un'aula particolare dove non vi sono i banchi nelle forme tradizionali che noi abbiamo conosciuto quando eravamo studenti, ma vi sono degli ambienti, vi è qualche banco ma si trova intercambiabile la possibilità che i banchi si mettono a serpentina, a cerchio, proprio perché l'ambiente di lavoro deve privilegiare l'interattività, deve privilegiare la capacità che i ragazzi diventino protagonisti del loro apprendimento. In questo convegno di Londra uno degli obiettivi che la stessa Europa il giorno 24 è stata una raccomandazione dalla Commissione europea, ha detto che le competenze chiave di cittadinanza che devono possedere i nostri giovani per diventare bravi cittadini europei e io direi cittadini del mondo, queste competenze chiave devono essere arricchite dalla creatività e penso che per noi sia molto importante, però il paese del made in Italy può oggi giocare la sua scommessa di futuro e di sviluppo economico se i nostri ragazzi vengono abituati alla creatività, la capacità di saper inserire l'innovazione nel proprio percorso di apprendimento, quindi non l'innovazione fine a se stessa, non la moda, non un'innovazione passiva, aggiuntiva, ma un'innovazione che sappia cambiare la tua capacità di apprendimento, guardare nuovi orizzonti. Un altro elemento molto importante è il senso di appartenenza e mi fa piacere che l'Unione europea abbia voluto sottolineare il senso di appartenenza nel momento in cui in Europa si stanno costruendo muri, si stanno costruendo pareti, si stanno costruendo divisioni, il senso di appartenenza è appunto quello legato ormai a quella che è una compagine sociale in un paese occidentale, quando siamo andati a Londra in alcuni piccoli padiglioni erano presenti alcune rappresentanze studentesche, vi erano una scuola della Norvegia, una della Spagna, una della Svizzera e lì era bello vedere gli studenti, c'erano raggruppamenti di 7-8 studenti per ogni delegazione e allora c'era la studentessa proveniente dalla Turchia, quello proveniente dal Marocco, c'è una eterogeneità di etnie che è appunto la società multietnica, una società dove effettivamente si può realizzare l'integrazione culturale. Noi anche nel nostro piccolo, in questo periodo stiamo ospitando studenti provenienti dagli Sprar, provenienti da queste realtà e sono studenti che magari rispetto ai loro coetani sono più grandi, però non hanno conseguito nei loro paesi la licenza media ed è una bella esperienza, l'altro giorno abbiamo fatto la giornata dalla memoria e fra questi ragazzi venne uno, un ragazzo di colore che ha intorno a 16 anni, 17 anni che man mano si è inserito nella nostra scuola e considera la scuola la sua famiglia, proprio perché la famiglia di origine è rimasta lontano, sta imparando velocemente la lingua e la sua presenza è voluto bene dai compagni e la sua presenza sta a testimoniare anche per i compagni cosa può significare stare lontani dai propri genitori e tuttavia voler costruire il proprio futuro, perché quel ragazzo sta capendo che noi lo stiamo aiutando, ma lui si sta impegnando non solo per imparare la lingua, ma per acquisire conoscenze che un giorno permettano di realizzare quel sogno che lui e la sua famiglia hanno coltivato, un sogno che lui ha dovuto conquistarsi superando difficoltà, tutti i problemi che noi sappiamo sono collegati all'immigrazione e quando abbiamo fatto l'alza bandiera gli ho chiesto di venire con me per partecipare, è stato l'inno del silenzio e quindi insieme abbiamo simbolicamente fatto il nostro omaggio alla bandiera italiana, questa è l'idea di scuola che noi stiamo costruendo, quella di aprirci all'esterno, di non essere chiusi, proprio perché noi i ragazzi li dobbiamo preparare a diventare cittadini del mondo, perché purtroppo già nei nostri tempi vediamo come le nostre città si stanno svuotando di giovani, allora se per ora non siamo in grado di poter fermare questo esodo che fa sì che tanti nostri diplomati, tanti nostri laureati se ne vadano fuori o anche tanti giovani vanno a studiare fuori, almeno prepariamoli ad avere quelle competenze che gli consentano di adattarsi a un mondo che è continuamente cangiante, un mondo dove occorre duttilità, flessibilità, dove non puoi pensare che il mondo si adatta a te e questo è una sfida, l'altra sfida che viviamo tutte le scuole è legata alle difficoltà che i genitori incontrano nell'esercizio delle loro funzioni, proprio perché la società tende all'individualismo, la società tende a trasformare il mondo virtuale nella realtà, perché spesso i ragazzi non riescono a capire qual è la differenza tra la vita di ogni giorno e quel mondo dove loro si proiettano spesso con una socialità eccessiva, con una connettività eccessiva. Recentemente alla Narbonne abbiamo fatto un convegno sul cyberbullismo, è venuto un nostro concittadino che lavora a Modena e che si occupa di informatica giuridica, non che il vicequestore del commissariato di Caltagirone e appunto fra le testimonianze che poi vi erano circa 200 insegnanti provenienti… Io ho visto il servizio del giornale di Tivorexen, provenienti da tutti i comuni e una maestra per esempio ci raccontava come una bambina di quarta elementare che in classe mostrava comportamenti di svogliatezza, la maestra ha chiamato la mamma e dice signora ma ha visto che si dice ma se ne è accorta anche lei, ma che ci sono problemi di salute, ci sono particolari problemi e la madre ha detto no, non ci sono problemi e il fatto che si sveglia alle 4 e mezza, alle 5 di mattina e si mette a chattare col telefonino, dice per cui è chiaro che quando arriva a scuola poi già ha un arretrato di sonno e quant'altro, a quel punto inevitabilmente la maestra ha detto signora ma come mai le consente alle 4 di mattina, alle 5 di mattina di usare il telefonino? E la signora ha risposto maestra se è capace lei glielo tolga questo telefonino. Ora mi auguro che questo sia un episodio limite, però l'esperienza di ogni giorno mi fa spesso vedere che questo non è un episodio limite, una sorta spesso di resa incondizionata che alcune famiglie fanno di fronte ai figli o assumendo atteggiamenti iperprotettivi, giustificativi, stiamo leggendo sulle cronache dei giornali, sulle televisioni, ieri credo che a Davole sia successo un altro episodio, un preside è stato preso a botte da alcuni genitori, l'altro giorno un insegnante è stato massacrato, quindi ci sono comportamenti dai più estremi che è quello appunto dello scontro fisico, spesse volte anche ad una delegittimazione della scuola, perché spesso la famiglia non è mai soddisfatta di ciò che fa la scuola, per carità la scuola ha tanti difetti, gli insegnanti possono avere i loro difetti, ma l'interazione, la sinergia tra scuola e famiglia è una cosa importante e noi lavoriamo moltissimo su questo, proprio perché sappiamo che se non c'è questa alleanza che funziona, la famiglia che si integra con la scuola, che anche esprime il proprio dissenso sulle scelte che una scuola può fare, ma in una logica sinergica, le cose non funzionano e quindi è una fase difficile, tuttavia noi sul versante tecnologico, lei sa che in alcune classi noi diamo in comodato gratuito un iPad, oltre che il comodato gratuito dei libri, stiamo realizzando esperienze innovative con il bilinguismo nella prima elementare, i bambini di 5-6 anni anziché fare soltanto un'ora alla settimana di inglese ne fanno 8-9 ore di inglese, una quinta già da un triennio sta studiando cinese, quindi stiamo cercando di fare delle esperienze che ci consentano di dare ai nostri alunni una dotazione di conoscenze e soprattutto di senso dell'impegno, del metodo di studio, perché sono queste poi le cose che peseranno sul loro futuro e potranno fare la differenza, qualcuno dice vabbè poi c'è la raccomandazione, c'è questo, ma fortunatamente questa fase, questo tempo ancora esiste in alcune sacche, ma non sarà il futuro, il futuro sarà quello che chi merita dovrà andare avanti, perché sono tali livelli di competizione che i nostri giovani devono sostenere che evidentemente avere un background culturale, conoscitivo, tecnologico è quello che fa la differenza. Le cito solo un dato, in questi giorni le varie sedi di Confindustria italiane stanno ribadendo come in Italia vi sia una grossa carenza di tecnici e vi sia una grossa carenza di cultura digitale, che oggi è fondamentale in qualsiasi processo produttivo, il governo ha approvato un'importante misura che è Industria 4.0, che è l'applicazione del digitale nel settore manifatturiero, noi giustamente ci lamentiamo che la digitalizzazione, la robotizzazione determineranno riduzione dei posti di lavoro, ma dimentichiamo anche che se noi siamo preparati a questa sfida di fronte alla riduzione di posti vi è la creazione di nuovi posti di lavoro, perché sarà richiesto un livello di competenze diverso all'operaio che sta alla catena di montaggio che dovrà possedere più competenze di tipo concettuale, in questo caso digitale e tecnologico, che competenze di tipo esecutivo. Allora se noi i nostri ragazzi li prepariamo, lei dirà, ma alla scuola elementare o alla scuola media che prepariamo ad essere imprenditori, noi li dobbiamo preparare non tanto ad essere imprenditori perché sono ancora piccoli, ma ad essere imprenditivi, ad avere la capacità nella fase di età in cui vivono di scommettersi, di cogliere la novità, di approfondire una curiosità, di fare ricerca, di avvicinarsi al nuovo, di avere uno spirito critico, perché questi, quando questi ragazzi saranno più grandi, saranno gli elementi che faranno la differenza. Quando i ragazzi in terza elementare hanno cominciato a studiare il cinese, qualcuno mi disse, ma allora gli creiamo la confusione in testa alla lingua inglese, poi c'è il cinese, questi non imparano l'italiano, invece noi abbiamo visto come questa quinta che sta per uscire quest'anno, i ragazzi hanno una visione del mondo diversa, hanno saputo intercalare le competenze linguistiche che non è che se uno studia una lingua la sottrae all'altra lingua, più si studiano le lingue, c'è gente che conosce 5-6 lingue ad esempio, più si studiano le lingue e a quell'età è molto più facile perché il cinese richiede una capacità di apprendimento legata ad un alfabeto che non è il nostro, ad una configurazione culturale che non è la nostra e allora i bambini hanno dimostrato che di fronte a questa novità sono stati curiosi, attenti e buona parte di loro stanno andando avanti. Certo, molto allettante. Senta, lei da quest'anno ha la responsabilità gestionale, il termine improprio, di dirigente scolastico anche dell'Ipsia che è collegato al Carlo Alberto della Chiesa che è collegato anche con l'alberghiero di Mineo, la sua presenza si è notata già dall'esterno, penso all'albero di Natale. Per me è stata un'esperienza molto impegnativa, io non l'avevo mai né insegnato né fatto il preside in un istituto professionale e quindi per me è stato anche scoprire un mondo, perché una cosa è che uno le guarda dall'esterno queste esperienze, una cosa è viverle direttamente. Cioè là l'esperienza scuola-lavoro si fa direttamente a scuola? Per esempio noi uno degli assi di sviluppo con gli insegnanti che stiamo portando avanti è quella per esempio di fare alternanza scuola-lavoro vera, seria. A proposito di carenza dei tecnici, un mese fa, un mese e mezzo fa sono andato a Pordenone a visitare un'industria 4.0 e successivamente poi ho avuto un incontro col presidente di Confindustria di Pordenone, il quale mi diceva, già che lei è dirigente di un professionale, per caso ha a disposizione dei giovani saldatori, non dei giovani ingegneri informatici, stiamo parlando dei saldatori? Ho detto sì, noi abbiamo dei ragazzi che stanno studiando e la risposta è stata immediata. Dice quando loro sono pronti me li mandi qui a Pordenone perché in questo momento in Italia c'è una carenza di saldatori, sa quanto guadagna da loro un giovane di 18 anni appena arriva lì all'inizio della carriera? Da 1.500 a 1.800 Euro al mese, poi man mano che si inserisce diventa più bravo, le sue performance anche occupazionali ed economiche gli consentono di accrescere lo stipendio, oggi uno stipendio del genere non lo prendono neanche gli insegnanti per esempio. Allora io dico perché ci stiamo ostinando ad avere una resistenza nei confronti del mondo del lavoro? Noi dobbiamo preparare i ragazzi con un apprendimento che deve durare tutta la vita, ma anche con un mestiere perché ci sono molti ragazzi che vanno in un istituto professionale perché non vogliono andare al liceo perché vogliono imparare un mestiere e il lavoro che stiamo facendo è proprio quello di qualificare questi ragazzi perché se vengono là non li possiamo mettere a studiare solo sui libri o accentuare la dimensione del lavoro in classe, i ragazzi devono stare in laboratorio e quindi il lavoro che sto facendo è quello di rinnovare i laboratori, per esempio abbiamo comprato 10 simulatori informatici che consentiranno di fare il lavoro che prima si faceva di fresatura in un laboratorio o di torni in un laboratorio, attraverso l'utilizzo di tastiere e quant'altro i ragazzi studieranno come alcuni processi produttivi vengono realizzati attraverso le innovazioni tecnologiche. Abbiamo realizzato una seconda palestra perché pensiamo che lo sport per i ragazzi sia un elemento salutare, un elemento che ha ripercussioni non solo sul fisico, sull'attività fisica, anche questo è un elemento che i ragazzi spesso non fanno perché spesso stanno seduti davanti al televisore, davanti al computer, davanti a una tastiera e quindi allora potenziare le loro capacità ci è sembrato anche importante. L'altra esperienza perché la sede dell'Ipsia ha anche la sede staccata di Mineo dove c'è l'alberghiero, è un'esperienza che giudico importantissima perché noi durante quest'estate abbiamo sentito spesso che i ragazzi che andavano a fare alternanza scuola lavoro andavano in ristoranti dove anziché stare in cucina si mettevano a lavare i piatti. L'alternanza scuola lavoro invece deve essere un momento serio, non solo per misurarsi con delle competenze tecniche della cucina, della sala, del ricevimento, ma anche misurarsi con la cultura del lavoro. Spesso i ragazzi non sono puntuali, non prendono seriamente il lavoro, allora stare dentro l'azienda significa acquisire elementi. L'Ipsia recentemente la Fondazione Agnelli, un dato che ho l'orgoglio di presentare come cittadino di questa comunità, l'Ipsia di Caltagirona dalla Chiesa, in questa indagine che ha fatto la Fondazione Agnelli sugli esiti successivi al diploma, l'Ipsia, lei magari non ci crederà, è il primo istituto nella provincia di Catania, l'alberghiero è il quinto istituto nella provincia di Catania con riferimento agli esiti occupazionali, cioè i ragazzi dell'Ipsia di Caltagirone hanno un livello occupazionale che purtroppo non è altissimo in relazione alle regioni del nord, ma siamo intorno al 27,5%, che naturalmente è un risultato. E noi abbiamo proprio stamattina ricevuto una lettera di un'azienda che mi chiedeva la presenza di due giovani capaci che erano disposti ad ospitarli in aziende per contratti di apprendistato, per dare loro una prospettiva di lavoro. Recentemente abbiamo partecipato a dei concorsi regionali e i nostri giovani si sono piazzati in alcuni casi anche al primo posto e poi quello che considero il fiore all'occhiello è il fatto che a Mineo noi stiamo gestendo la mensa dell'istituto comprensivo. Ogni giorno i nostri ragazzi preparano 300 pasti che vanno alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria. Per i ragazzi è un'esperienza importante, intanto perché ovviamente la qualità… Anche l'economicità dell'amministrazione? Beh, devo dire certo che il Comune in questa maniera ha anche affrontato un problema molto importante, però anche la qualità del servizio migliora perché noi non distribuiamo il cibo nelle scatolette di plastica sigillate, che naturalmente è buono, non ha nessun problema, ma si serve come al ristorante, ci sono i ragazzi di sala che girano dove sono seduti i loro coetanei più piccoli e con la pentola distribuiscono il cibo, quindi anche quelli di ricevimento spiegano quel giorno che tipo di piatto, quali sono le proprietà organolettiche, quali sono le proteine, le vitamine, le caratteristiche di quel cibo, ogni tanto preparano un piatto particolare, quindi stiamo facendo un'esperienza che non è solo di carattere professionale, ma di orientamento e anche per i ragazzi più piccoli, anche di promozione della scuola stessa e da questo punto di vista, proprio per questo rapporto di collaborazione che si è creato con l'amministrazione locale, il Comune di Mineo ci ha assegnato per 20 anni un palazzo che si chiama Palazzo Ballarò, che è bellissimo. In un primo momento era stata assegnata solo una parte di questo palazzo, l'amministrazione ha fatto uscire le varie associazioni che si trovavano dentro il palazzo e che magari probabilmente era una struttura sottoutilizzata e quindi quasi tutto il palazzo tranne una stanza a pian terreno che credo abbia l'Avis, sarà gestito dalla scuola, la scuola realizzerà, stiamo avendo dei rapporti con l'ex provincia di Catania perché abbiamo bisogno di realizzare una nuova cucina molto grande e in questo spazio che si trova vicino alla chiesa, lei pensi che potranno essere realizzati 180 posti a sedere, quindi questo palazzo diventerà un polmone culturale non solo di Mineo, ma del comprensorio, penso ad esempio ai club service di Catania, di Palermo che vogliono fare una visita nei comuni del Val di Noto o anche nella stessa città di Mineo, noi potremmo fare il catering la sera e ospitarli, quindi per la scuola diventerà anche una fonte di guadagno economico, una occasione per gli studenti per farsi conoscere e quindi abbiamo questo progetto ambizioso perché è veramente ambizioso, pensi che realizzare soltanto le cucine ci vorranno 150 mila Euro, ora abbiamo in questi giorni una scadenza che è uno dei ponne che stiamo presentando e io spero di poter realizzare questo obiettivo che consentirà all'istituto di Mineo di poter arrangiare questa struttura perché purtroppo negli ultimi anni abbiamo perso molti iscritti, addirittura che sono studenti di Palagonia vanno a Lentini perché lì c'è una nuova scuola, un nuovo alberghiero e quindi in questi giorni, per esempio la settimana passata siamo stati a Palagonia di sera, abbiamo fatto una periscena per i genitori delle scuole medie di Palagonia, lunedì pomeriggio saremmo a Ramacca dove i nostri ragazzi cucineranno a Palagonia, ad esempio in diretta abbiamo preparato alcuni piatti, i nostri ragazzi hanno fatto vedere certo non tutti i dettagli della preparazione ma la parte finale, però i genitori hanno avuto modo di osservare direttamente quello che sono capaci di fare i nostri ragazzi e anche qui il settore alberghiero in questo momento in Sardegna stanno cercando cuochi, aiuto cuochi, vi sono in questo momento con la crescita del turismo che alcune regioni italiane stanno avendo, notevoli possibilità di lavoro, ora se noi riusciamo, noi in questo momento abbiamo dato ai ragazzi tutta la formazione di base non solo dal punto di vista delle tecniche di cucina o di ristorazione, ma anche da un punto di vista formale, i ragazzi ci sono fatti i corsi sulla sicurezza, i corsi HCCP che consentono di poter aprire una pizzeria, di un'attività di carattere alimentare, un ristorante e quant'altro, la scuola stessa si è iscritta alla SCICA, abbiamo tutti i documenti per svolgere attività di ristorazione all'esterno e penso che questo sia un passo in avanti, per molti ragazzi che hanno purtroppo un rapporto con la scuola difficile, la cultura del lavoro, la possibilità di stare dentro i laboratori è l'esperienza più importante e più significativa e quindi il mio impegno e la mia soddisfazione insieme a quella degli altri colleghi, degli insegnanti della scuola che ci siamo impegnati in questa scommessa è che noi non vorremmo perdere il dalla Chiesa e in questo devo anche ringraziare il governo regionale, in modo particolare anche l'onorevole Marco Falcone, il Presidente della Regione Musumesci, perché quest'anno la scuola doveva essere accorpata secondo il piano provinciale, essendo una scuola sottodimensionata con l'istituto industriale. Stiamo provando a mantenere questa autonomia scolastica per cui per un altro anno il governo regionale ci ha dato la possibilità di restare sottodimensionati e di tentare di poter raggiungere il traguardo nuovamente dei 600 alunni. Mi rendo conto che in pochissimi mesi purtroppo quando si scivola verso il basso è facile, è rapido, quando poi bisogna risalire la chiesa diventa più faticoso e più complesso, quindi abbiamo ottenuto questo importante risultato che noi ci auguriamo nel corso dei prossimi mesi ci possa consentire di riportare di nuovo l'autonomia scolastica, anche perché quando si fa un accorpamento, l'accorpamento soprattutto nella scuola secondaria e superiore determina di fatto una capacità attrattiva dei vari indirizzi, perché inevitabilmente soprattutto in questo caso addirittura si creava una mega scuola da 1500 alunni e quindi sarebbe stata anche una struttura più difficile da gestire, per cui ancora c'è tempo per le iscrizioni, noi stiamo girando per esempio lunedì da Niscemi, il capo Roberto della Chiesa e l'Epsia fino a quando ci si può scrivere? Fino al 6 di febbraio, esattamente, lunedì per esempio siamo andati a fare orientamento a Niscemi e adesso un nostro pullman andrà a prendere gli alunni di Niscemi, quelli che hanno un interesse verso la nostra scuola e lunedì mattina per tutta la giornata insieme agli insegnanti di quella scuola, i ragazzi vivranno dentro la nostra scuola e abbiamo anche intenzione nel corso dei prossimi mesi di aprire dei laboratori permanenti nelle varie scuole dell'obbligo di Caltagirone, di Gran Michele, di chi ci darà la disponibilità per orientare i ragazzi non in terza media, nell'ultimo mese, ma nei mesi precedenti, negli anni precedenti, in modo da creare e cominciare a sperimentare anche un percorso curriculare che lega il primo ciclo col secondo ciclo. Ho bisogno di chiudere subito questa parentesi, il professore Franco Pignataro è responsabile da circa un anno, se non vado errato, per la CGL della scuola regionale, questo è un ruolo che indubbiamente le consente di giocare il termine, me lo lasci passare, nei tavoli decisionali più importanti, sia a livello regionale che anche quelli ministeriali, il fatto stesso di questa lunga esperienza di dirigente scolastico con questo modello della scuola della Narbone, che è un fiore all'occhiello, uno dei migliori istituti che esiste in tutta Italia, certamente pone la sua professionalità, ma anche la città di Caltagirone dal punto di vista dell'istruzione su un proscenio più interessante. Sì, certo, questo impegno che era un po' al di fuori degli impegni che avevo avuto precedentemente di carattere politico e amministrativo… Mi vorrebbe di chiederlo come ci è arrivato? No, ma io non ho nessun problema a dirglielo perché non è… No, va bene, ma l'importanza non è sostanziale, l'importante che c'è, diciamo… Diciamo che dopo qualche anno dall'impegno amministrativo mi fu proposto, essendo io un iscritto della CGL scuola da quando sono entrato a scuola, diciamo da più di 30 anni, 35 anni, e mi fu chiesto di far parte del direttivo nazionale della CGL settore dirigenti, perché io non sono responsabile regionale della CGL scuola nel suo interesse, ma del comparto della dirigenza, precedentemente ma anche attualmente facevo parte della direzione nazionale, dove ci siamo un rappresentante per ogni regione, all'epoca la Sicilia aveva un rappresentante della Sicilia orientale e uno della Sicilia occidentale, oggi ci sono solo io che unifico sia la Sicilia orientale che occidentale. Certo, è chiaro che noi lavoriamo direttamente con la direzione generale della Sicilia, recentemente abbiamo chiuso il contratto integrativo di lavoro della dirigenza scolastica, spesso vengo convocato a Palermo perché ci sono attività di carattere negoziale che facciamo con l'USR e poi in questo momento stiamo seguendo a livello nazionale la delicata vicenda di tutti i contratti, lei sa che il governo ha riaperto in tutto il settore pubblico la sottoscrizione dei contratti, perché i contratti della scuola erano fermi da 10 anni, così come tutti quelli del pubblico impiego. Noi rivendichiamo un ruolo importante della dirigenza perché come lei ha esordito all'inizio della trasmissione, a proposito del mio incarico temporaneo presso l'ipsia di Caltagirone, il dirigente oggi ha una funzione gestionale importantissima, rispetto al vecchio ruolo di preside i compiti sono aumentati, la complessità delle scuole è aumentata, nel passato erano rare le scuole che avevano 800-900 alunni, oggi sono quasi la regola, vi sono tanti fattori di complessità, tante responsabilità che sono in capo al dirigente scolastico, quindi la rivendicazione che stiamo facendo è quella che rispetto alle altre dirigenze pubbliche, a cominciare da quella degli enti locali, noi siamo i fratelli più poveri perché vi sono differenze economiche significative che noi ci auguriamo questo contratto in parte possa cominciare a modificare perché adesso la dirigenza della scuola è stata unificata con la dirigenza dell'università e quindi facciamo parte dello stesso comparto, però al momento la differenza stipendiale è intorno a 30.000 Euro l'anno, l'orde ovviamente, giusto? Quindi l'attuale governo ha innescato un meccanismo prevedendo la copertura finanziaria che piano piano dovrà allineare e ridurre questa differenza fra due figure dirigenziali che fanno pure in campi diversi e lo stesso lavoro, ma a fine mese percepiscono emolumenti notevolmente diversi. Quindi è un'esperienza che stiamo facendo, è chiaro che io non essendo distaccato devo coniugare la complessità degli impegni legati alla mia giornata, più prendere gli aerei per andare a Roma, andare a Palermo, però insomma certo non ho più la freschezza di tanti anni fa, ma ancora insomma cerchiamo di non abbatterci perché è un momento in cui la tendenza più diffusa di gettare alla spugna, di tirare a campare, magari di cominciare a sognare il tempo della pensione si affaccia in tante persone e io penso invece che proprio nei momenti di crisi, che sono momenti di passaggio in cui sta cambiando tutto, si sta ridisegnando tutto, ognuno nel proprio piccolo, io non ho l'ambizione di avere la possibilità di cambiare il mondo, di incidere le cose, però lavoro con tantissimi insegnanti perché adesso unendo le due scuole, la Narbone dove ci sono circa 180 insegnanti, l'Ipsia dove ce ne sono circa altri 120-130, quindi lavoro con tantissime persone e il mio compito è quello di mettere queste persone nelle condizioni di fare il meglio, di fare squadra, anche questo è un compito difficilissimo dei dirigenti scolastici che non hanno solo la rappresentanza legale della scuola, ma devono creare un ambiente di lavoro stimolante, partecipato, motivato e motivare anche persone che man mano stanno avvicinandosi alla pensione, ma appena si avvicinano la data finale della pensione si allontana e quindi c'è anche un tema ad esempio come fa un insegnante che avanti con gli anni a interagire con i bambini ad adeguarsi, generazioni nuove, mentalità nuove, stili cognitivi nuovi, è spesso un lavoro difficile, alcuni si adeguano più facilmente, altri hanno difficoltà ad adeguarsi e quindi il mio lavoro io cerco di farlo con coscienza, con professionalità, con impegno perché tutto questo richiede molte energie, anche ore e ore di lavoro, però alla fine la mia soddisfazione è quando pur in mezzo a mille difficoltà abbiamo aperto la mensa a Mineo e siamo riusciti tutti insieme a portare avanti questa iniziativa… In pochi mesi questo… Stamattina io ho ricevuto da parte di un insegnante, degli insegnanti della scuola elementare alcuni disegni che hanno fatto i ragazzi, i bambini, dove mi ringraziavano per questa mensa, perché stanno mangiando bene, perché insomma mentre prima avevano un atteggiamento riluttante nei confronti del cibo, penso ad esempio alle verdure, i bambini non amano le verdure, è chiaro che noi le verdure dobbiamo rispettare, una tabella biologica, trattate in maniera diversa, polpettine, insomma altre combinazioni, mangiano tutto, quindi anche questa è una bella soddisfazione, i bambini mi hanno mandato questi messaggi con disegnini, cuoricini, fiorellini e quant'altro ed è una cosa bella perché significa che il tuo tempo, il tuo impegno non sono passati inutilmente ma hanno prodotto determinati risultati. Ecco io stamattina ho detto ai nostri ragazzi, ragazzi siamo partiti da qui, però se tutti insieme lavoriamo, chissà che il prossimo anno non possiamo allargare la nostra area di intervento e per voi può diventare una possibilità di lavoro perché è chiaro che se tu c'hai un curriculum dove hai fatto ristorazione collettiva, semplicemente restando nel territorio di Mineo, nel territorio di Mineo c'è il CARA e nel CARA ci sono 3.000-4.000 pasti che la mattina e la sera vengono fatti, quindi significa che c'è bisogno anche di persone che sappiano stare nella ristorazione collettiva. Tutto questo si può fare se non ci scoraggiamo, se non gettiamo la spugna, se guardiamo più avanti e io penso che il nostro territorio ha delle potenzialità, quello che in questo momento manca nel nostro territorio è la capacità di fare sistema perché ognuno vive chiuso nel proprio piccolo habitat, nella propria nicchia invece è il momento di uscire fuori, di fare rete, io sto lavorando molto sulla rete delle scuole del Calatino insieme agli altri colleghi, l'ambito 8 è un ambito che raccoglie tutto il Calatino, da San Cono fino a Scordia, Militello, Mineo… Il professore Pignataro è il responsabile scolastico, come se fosse il provveditore no, assolutamente no, è quasi una cosa del genere, è quasi una cosa del genere, non lo faccio passare con… sì, perché non esiste più il provveditore… Diciamo che probabilmente le intenzioni nascoste del legislatore, del ministero quali sono? Che siccome i provveditorati stanno andando man mano che le persone vanno in pensione e si riducono di numero, il tentativo… Essere sostituiti da questi, quindi sono sbagliati… Ma in ogni caso alcune funzioni che già nel passato erano dell'ufficio scolastico provinciale, piano piano passeranno a questi ambiti. Una delle prossime puntate, lo dicevo ai colleghi quando ci siamo riuniti qualche giorno fa, è ad esempio che le certificazioni che riguardano l'handicap, gli alunni, l'individuazione degli insegnanti di sostegno, quante ore devono essere date ad un alunno sulla base del proprio handicap, mentre fino ad ora vengono esaminate dal provveditorato agli studi, col gennaio 2019 saranno esaminate all'interno di ogni ambito, quindi noi ci faremo le 1500-1600 pratiche che riguardano il calatino, che è un lavoro abbastanza complesso anche perché questi ambiti non hanno una struttura amministrativa propria, io metto a disposizione i nostri assistenti amministrativi, i nostri insegnanti, i colleghi che per esempio ospitano i corsi di formazione dei docenti, anche loro mettono a disposizione, diciamo che al momento queste purtroppo sono riforme a costo zero e lei sa che non tutte le riforme si possono fare a costo zero. Va bene, senta professore, vero è che, vero è forse che aveva ragione lei che mancava da questo studio da un anno e mezzo, non è successo nulla, la televisione è andata avanti e non ha fatto, come dire, la mia assenza, non credo che abbia abbassato l'audience, anzi probabilmente l'ha rialzata. Allora, mentre lei parlava dico ora facciamo una cascinata, lei è abituata alle cascinate, veramente ho perso l'allenamento. Dico faccio una bella pausa pubblicitaria, abbiamo esaurito il franco Pignataro, dirigente scolastico, sindacale e quant'altro, faccio pausa pubblicitaria e mi trattengo con Pignataro per parlare di politica, non so se questa cosa le dice qualcosa. No, non mi dice nulla. Allora, faccia questa scelta lei. Per recuperare, perché adesso ho tante cose da chiederle, tante cose, ex amministratore, ci sono tanti argomenti all'ordine del giorno in questa città. Dobbiamo guardare il futuro, non il passato. Sì, ma a volte per costruire bene il futuro bisogna capire dove si è inceppata la macchina nel passato. Mi segue? Quindi o lei assume pubblicamente un impegno a ritornare non oltre il 15 febbraio, oppure io faccio fare una pausa pubblicitaria e così… Ma a lei mi pare molto perentorio però, come mai questa perentorietà? Quindi allora scelga lei, faccio la pubblicità e torniamo poi con un secondo… Oppure diciamo che fine prossima settimana ci rivediamo. Penso che ormai i nostri telescoltatori già siano stanchi a quantomeno di ascoltare la mia voce. No, ma sai, il problema è che io vorrei parlare di lei di amministrazione, di bilancio, di sostauto, di cimitero, voglio parlare di… Vabbè, ma io non vorrei di nuovo generare polemiche, discussioni… Ma sono argomenti. E vorrei parlare anche di politica, diciamo. Lei è un'esponente del Partito Democratico, credo che in questo momento ci abbia pure tanto da dire. Allora mi risponda stringatamente. Facciamo una pausa pubblicitaria e continuiamo con il secondo spazio, oppure ci rivediamo proprio la prossima settimana, il prossimo 9 febbraio, 8… Diciamo che ci riaggiorniamo. No, 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 assumiamo qua perché altrimenti facciamo una pausa pubblicitaria. Perché sa qual è il problema, che non dobbiamo commissionare il sacro… Ma infatti io lo stacco con la pubblicità. Stasera abbiamo parlato, tra virgolette, del sacro. Ascolti, o faccio una pausa pubblicitaria e continuiamo, oppure rimandiamo a giovedì, 8 o venerdì 9. Penso che i nostri tecnici della regia siano stanchi, quindi rimandiamo a casa. Non so che ora si è fatto, mi pare che siamo intorno alle 11, 10 e mezza. Allora, salutiamo ora e ci riaggiorniamo. Salutiamo e auguriamo la buonanotte ai nostri telescoltatori. Ci riaggiorniamo il prossimo 8 febbraio, giovedì 8 febbraio. Va bene? Grazie al professore Pignataro, dirigente scolastico della Lessione Arbone, dell'Ipsia Carlo Alberto della Chiesa. Se da via Gela comandò a finire poi, secondo il programma, non so se ricorda. No, ma credo che tutto è rimasto così, il governo regionale ha congelato tutto il provvedimento. Quindi è rimasto nel comprensivo della Lessione Arbone, come anche i semini, mi pare che sono stato scuola, quale scuola le mancano a Calteggirone dintorno? No, già ne ho abbastanza, fra l'altro non vorrei turbare i sogni di qualcuno che magari immagina che ci sia da parte mia un atteggiamento famelico ad avere ulteriori scuole, quello che io mi bastano. E su, vanno così? Se qualcuno pensa che io desidero altre scuole, non è assolutamente così. Già, mi basta e diciamo ci fermiamo qui. Però dove arriva poi i genitori, essenzialmente i genitori, i ragazzi fanno fatica a doversi staccare da lei. No, questo non lo so, lo lascio decidere. No, questo l'ho registrato dai tanti genitori che spesso sento, ascolto e che tante volte ho avuto possibilità qua. Va bene, allora chiudiamo qua, ci riaggiorniamo giorno 8, giovedì prossimo, 8 febbraio, con il professore Pignatario per parlare di politica. Innanzitutto parlare del Partito Democratico. Non è il segretario politico, perché il segretario politico a Calteggirone si chiama Paolo Crescino. Sono un soldato semplice. Ma infatti in quella qualità soltanto. Esatto. Come si sente come è iscritto al Partito Democratico in questo momento, primo febbraio? Vi sono sentimenti ambigui. E cioè ora, in 30 secondi dai. Mi sento insomma soprattutto con un PD siciliano che veramente non ha dato il meglio di sé, con un governo crocetta che ha lasciato un segno indelebile, non nel senso positivo della parola, ma nel senso negativo. E questo sicuramente purtroppo peserà. Che impressione le fasse vedere il Cracolici oggi, quando ai tempi di Lombardo, Presidente della Regione, e quando in quel periodo con la segreteria dell'Onorevole Lupo, andò a commissariare pure la segreteria politica retta da Gaetano Cardi e la Calteggirone. E oggi si strappa le vesti. Noi siamo orgogliosi di essere uomini liberi. Magari questo purtroppo non ci ha consentito di dare alla nostra città deputazioni, forti riferimenti istituzionali. Però siamo stati uomini liberi, lo abbiamo dimostrato lungo la storia. Nel passato, quando i partiti erano i partiti veri, quando la politica aveva anche uno spessore molto più corposo dell'attuale, quando un gruppo dirigente falliva la sua linea politica, veniva sostituito e generalmente veniva sostituito da chi aveva contrastato da minoranza quella linea politica. Lei ha parlato di Cracolici. Cracolici era uno dei più grossi assertori a sostegno al governo Lombardo. Quando poi il governo Lombardo entrò in difficoltà, automaticamente con un camaleontismo tipico di Cracolici, sostanzialmente diventò l'antestignano dell'antilombardismo, che tutto era stato sbagliato, come se, diciamo, Lupo, Cracolici... Al punto di diventare assessore del governo Crocetta. Negli ultimi mesi, improvvisamente folgorato sulla via di Damasco e diventato un renziano di ferro, nel momento in cui si può essere d'accordo, non si può essere d'accordo, Cracolici non ottiene quello che Renzi avrebbe dovuto darglielo, improvvisamente Renzi diventa il nemico numero uno, dobbiamo fare la crociata con Crocetta, con Lumia, cioè con un gruppo dirigente che dovrebbe stare muto, perché dopo che tu per 30 anni sei stato alla regione siciliana, che cosa devi andare a rivendicare? E ancora sei parlamentare regionale, che cosa devi andare a rivendicare? Voglio dire, cioè, io penso che ci deve essere il senso del limite, il senso della misura, perché così gli elettori si confondono, i nostri elettori si confondono, perché se in parte siamo confusi anche i gruppi dirigenti, e poi quello che noto è l'assenza di generosità, finché le cose coincidono con la tua parabola individuale, tu ti impegni, quando le cose non coincidono più con la tua parabola individuale, non ti impegni. Allora io, di fronte a un Cracolici, che assume questi comportamenti, e di fronte a una personalità come Giovanni Burtone, sindaco di Militello, che poteva anche restarsene tranquillo a fare il sindaco, perché già l'impegno del sindaco è abbastanza oneroso, e viene chiamato da Roma e gli chiedono non di candidarti in un collegio sicuro, con tutti gli ammortizzatori e le coperture necessarie, ma di essere candidato al Senato in un collegio molto ampio che va da Nicemia, da Cireale, a Paternò, a Giarre, quello risponde come qualcuno molto più famoso di me rispose obbedisco, nel senso che c'è un momento in cui si devono mettere da parte le proprie legittime ambizioni e se in questo caso Burtone, che è l'unico che può avere una serie di addentellati in realtà così vaste, è disposto a dare un contributo senza polizia assicurativa, questo è un fatto incommiabile, quindi dentro questo Partito Democratico vi sono soggetti che sono disposti a spendersi e soggetti invece che ritengono che nel momento in cui i propri desiderati non sono stati… cioè se Renzi oggi va male, andava male quando Caracolici ha deciso, non più tardi di qualche mese fa, di aderire al progetto di Renzi, ora improvvisamente Renzi è il peggio che ci possa essere e questo modo non va bene, io anche lo stesso Presidente Crocetta dovrebbe anche assumere comportamenti meno così rivendicativi, adesso facciamo una campagna elettorale contro, no, questo non è assolutamente un modo di comportarsi, io quando ci furono le precedenti regionali potevo scegliere la strada più corta che era quella di candidarmi nelle liste di Crocetta, sarei stato eletto parlamentare, il primo parlamentare in Sicilia perché anziché essere il primo dei non eletti nelle liste del PD, sarei stato il primo degli eletti… Stiamo parlando delle lezioni del 2013… Nelle liste del 2013, io ho deciso di essere coerente perché se stavo dentro quel partito io dovevo agire coerentemente, nonostante quel partito a livello provinciale mi candidava un tale Anthony Barbagallo che fino a sei mesi prima era stato nelle file di Lombardo, per carità, poi si era convinto che i valori di Lombardo, di quella cultura politica non gli erano più consoni, era passato nel PD, però io cosa avrei dovuto fare? Siccome c'è un cambio di programma e mi si antepone un dirigente che prima non c'era, allora a questo punto io abbandono la lista del PD pur restando dentro il PD e me ne vado con Crocetta, io ho dato il mio contributo che ha consentito anche di eleggere Anthony Barbagallo, non so se mi spiego, contro cui io non ho assolutamente nulla, per carità, amarezza pure sua, sento l'ultima… Avevamo detto che dovevamo chiudere… Sì, fate un primo piano del professore Pignataro, la regia… No, no, così, una curiosità assoluta… Una fiera delle vanità stasera… No, un primo piano, un primo piano, un primo piano… Cosa volevo vedere, capire i bianchi… Sì, sì, mi faccio… Capire i bianchi… Un primo piano, è un primo piano, sì… Lo so, scusi, giorno 18 c'è stato Matteo Renzi qui a Caltagirone per commemorare il 99esimo anniversario del manifesto ai liberi e forti di Luigi Sturzo, ecco, quanto c'è di vero che Matteo Renzi, per il tramite dell'onrevole Castagnetti, gli ha chiesto la disponibilità a candidarsi nel PD? Non c'è assolutamente nulla di vero, questa è una pura illazione e al solito un modo molto approssimativo di pensare… Ha stato dicendo la verità? Ma ci mancherebbe altro, un modo approssimativo di pensare… Ma non ci sarebbe niente di male di dire sì, l'ho avuto e ho rifiutato… Io avrei detto sì o no, probabilmente avrei detto di no, perché è chiaro che uno deve avere anche il senso della misura, capire dove può arrivare e non avventurarsi in passi che non sono adeguati alle proprie caratteristiche. Renzi è venuto perché ha riconosciuto a Castagnetti, a Giovanni Burtone, a questo gruppo dirigente locale, un impegno che non è nato ora, perché veda, noi gli impegni li abbiamo da antica data, non improvvisiamo di volta in volta sulla base delle circostanze e Matteo Renzi era stato invitato l'anno scorso, era stato invitato anche quest'anno e probabilmente non sarebbe venuto perché normalmente a Caltagirone ormai viene spesso, non solo durante la campagna elettorale, ma anche in altri momenti, l'attuale Ministro del Lavoro che avrebbe dovuto essere presente, però Renzi accolto in un anniversario così importante, perché siamo quasi vicino ai 100 anni, ha voluto in qualche modo tributare a questa personalità, le cui caratteristiche oggi sono ancora di estrema attualità, anche un tributo legato anche alla storia del Partito Democratico, ha voluto legare anche questa storia che è fatta dal Cattolicesimo, quindi la presenza di Renzi ha allarmato a Caltagirone, ha allarmato molti notabili. Sono venuti tutti? Ha allarmato molti notabili perché hanno pensato, quelli di Caltagirone al solito sembra che siano morti ma poi risuscitano, perché pensano che noi costruiamo gli eventi sulla base di ricadute individuali o del gruppo dirigente locale, invece come la storia dimostra non ci sono state candidature, come non c'è mai stato nulla, noi abbiamo fatto tutto a gratis, lo abbiamo fatto per la nostra città perché che possa piacere o non piacere il personaggio Renzi, indubbiamente è un personaggio che negli ultimi anni ha primeggiato nella storia politica del nostro Paese, ripeto uno può essere d'accordo al 100%, al 50%, può essere contrario, però il fatto che quando Renzi decide di venire in Sicilia a ridosso delle elezioni e viene solo a Caltagirone, che non è Palermo, che non è Catania, che non è Messina, io penso che questo ha un suo valore e devo riconoscere, già che stiamo a cercare apposto questo tema, che anche l'intervento di Renzi è stato un intervento di qualità, nel senso che ha saputo associare alcuni nuclei tematici del pensiero sturziano, delle posizioni che Sturzo ha avuto con l'attualità e questo penso che sia un compito di un politico, quello di associare le idee, il patrimonio culturale, a quello che è l'attualità e cercare di trovare in quel passato delle chiavi che possano meglio comprendere il valore del futuro. Va bene, allora chiudiamo qua, non ci vediamo giorno 8, ma ci vediamo prossimamente, anche perché qualche sassolino me lo sono riuscito a toglierlo, diciamo. Ma lei ci teneva che io parlasse di Cracolici? Ho parlato di Cracolici. Oddio, non ci avevo pensato a questo, non so perché mi è venuto naturale, ma perché è un argomento che quel periodo del commissariamento, ho vissuto quel periodo, quella stagione politica, pur non essendo del PD, ma come caltegironese, mi sentivo particolarmente impegnato. Quando ho rivisto personaggi come Crocetta, che hanno tradito non solo il gruppo dirigente del PD di Caltegirone, ma che hanno tradito questa città, perché io le ricordo che la questione del dissesto fu posta al Presidente della Regione, il risultato quale fu? Che il Presidente della Regione dopo qualche mese in pompa magna andò a trovare l'allora Sindaco Bonanno. Ora non è che io mi meraviglio del fatto che il Presidente della Regione possa andare a trovare in un rapporto istituzionale il Sindaco di Caltegirone. Io ho ricevuto Fini quando ero Sindaco di Caltegirone, non è perché Fini faceva parte di un'altra parte politica, allora Alleanza Nazionale. Lui era Secretario Nazionale di Alleanza Nazionale, io ho saputo che trovavasi a Caltegirone, l'ho ricevuto in veste ufficiale presso il Comune di Caltegirone, perché è giusto che questo fa onore alle istituzioni e dà l'idea di una città che ha cultura politica e che rispetta anche gli avversari. Però quando tu vai a trovare lì il Sindaco con tutta la Giunta, con tutto il contorno e dai a questo incontro non un valore istituzionale, ma un valore quasi politico perché si sono messi a discutere quello che è la prospettiva del programma dell'allora Sindaco, tu dimostri di non avere rispetto del gruppo dirigente locale, come non lo ha dimostrato l'onorevole Rosati, capogruppo alla Camera del Partito Democratico, che sapendo che in questa città il gruppo dirigente locale vi erano problemi, un senso di opportunità avrebbe richiesto altre personalità nel passato, avrebbero preferito non venire nel sud, ma evitare questo momento in città, perché è stato brutto che un rappresentante dell'istituzione e un rappresentante più significativo di un partito politico venga qui e tutta la dirigenza del circolo per ovvi motivi non ha partecipato ad un'iniziativa che era legittima sul piano della sua proposizione. Questo modo di fare purtroppo fa sì che ancora questo partito deve crescere, deve rivedere tante cose. Va bene, chiudiamo qua. Grazie professore, siamo tirati un'ora, non è passato così, però mancava da un anno e mezzo, quindi faccio a mente. Quindi diciamo, avevo titolo per stare un po' di più. Va benissimo così. Complimenti per il baglioncino, la scelta a posto per fare part d'anne con la nostra scelta. E ho detto che non vedevo lo studio da tanto tempo. Ma da casa l'avrà visto. Sì, ma non sa come una cosa è dal vivo una cosa è vederlo da casa. Va bene. Grazie, ci vediamo prossimamente. Arrivederci. Buona serata. Allora, nel chiudere vi ricordo appunto domani sera questa esclusiva dell'intervista con l'onorevole Presidente della Regione, l'onorevole Musumeci. Quindi un brevissima pausa pubblicità e passiamo subito ad un altro argomento. Dopo. Grazie.